Ciao, sono Davide Tambone, sono un corporate coach della International Coach Federation e da più di 20 anni accompagno persone, gruppi e organizzazioni ad evolvere in contesti spesso molto competitivi. Ebbene, soprattutto negli ultimi anni mi sono accorto di una costante, che spesso gli sforzi profusi non corrispondevano ai risultati raggiunti e quando questo accadeva ovviamente provocava una certa frustrazione. Allora ho studiato tutti i modelli evolutivi delle specie viventi e mi sono accorto che ci sono degli algoritmi che se eseguiti consentono una grande crescita. Nel momento in cui non sono seguiti invece si blocca la crescita e l'evoluzione. Mi sono detto che l'azienda è un essere vivente e spesso quando inconsapevolmente transgredisce questi algoritmi ferma la sua crescita o la riduce tantissimo rispetto al proprio potenziale. Quindi nel laboratorio che faremo insieme, che io ho chiamato la grande bellezza, scopriremo i cinque più grandi algoritmi che regolano la crescita e chi vi parteciperà li confronterà immediatamente con il proprio modello di sviluppo personale o organizzativo, riuscendo immediatamente a stabilire delle nuove strategie per riaccordarsi ai modelli universali e impiantare subito delle azioni evolutive. Vi consiglio di partecipare a questo grande ciclo chiamato i 14 per la sua notevole ricchezza. 14 consulenti, formatori e coach con provenienza culturale diversa porteranno grande ricchezza e fertilità proprio per la diversità che scopriremo essere una delle grandi leggi universali della crescita e dell'evoluzione. Quindi ti invito a essere dei nostri e ti auguro buona evoluzione.